La situazione che c'è stata retroattiva di rifacimento degli impianti, abbiamo realizzato infrastrutture, abbiamo realizzato cavidotti per arrivare a questi impianti, oggi li buttiamo di vani. Sono famosi per cambiare le carte a gioco iniziato e quello naturalmente fa male alle immagini del paese e quindi la persona è realizzata.